Ho una domanda per te. Se con il tuo team devi costruire una barca, tu cosa fai? Gli dici, vai a prendere la legna, monta quello, fai quell'altro e, in men che non si dica, hai la barca proprio perfetta. Sai invece cosa fa un leader? Un leader racconta quanto è bello il mare aperto, quanto è bello il viaggio, la libertà che si respira e la felicità di poter stare tutti insieme a osservare un bellissimo cielo stellato. La noti la differenza? Nel primo caso hai semplicemente dei bravi ragazzi che eseguono il lavoro come gli hai detto di fare e sicuramente lo faranno perfettamente. Nel secondo caso invece hai gli stessi bravi ragazzi che però sei riuscito a emozionalmente agganciare a te e ti saranno per sempre fedeli perché gli hai raccontato quanto è bello appunto la libertà e quanto è bello il lavoro che stanno facendo e il motivo per cui lo fanno e per questo ti saranno grati e fedeli per sempre. Io non sto dietro al mio team dicendo andate tranquilli fate, io vi sto qui, vi gestisco da qui, vi guardo da qui e voi andate benissimo, guardate perché vi ho gestito benissimo. No, il bravo leader è con loro. Io sto davanti a loro, insieme a loro e dico andiamo, andiamo insieme a raccogliere, a raggiungere proprio l'obiettivo che abbiamo come team. Chi lavora con te deve sapere che tu ci sei sempre a proteggerli e a salvargli diciamo le spalle e a guidarli nella direzione giusta. Smetti di gestire e inizia a guidare perché si gestiscono le cose e si guidano le persone. Ne ho parlato in modo approfondito nel corso Impara Benefica Gisci dove c'è una parte dedicata alla leadership e come svilupparla nel modo corretto e soprattutto in modo efficace e che ti porti a successo. Oltre a questa parte della leadership avrai la possibilità di avere una parte di personal branding dove ti spiego come si sviluppa il personal branding e soprattutto come facciamo a guadagnarci sviluppando il nostro personal branding, come attirare a noi le persone, perché se sei nel commercio sai che il modo migliore di vendere è quello di attirare a sé i clienti, come vendere in modo diciamo più efficace e anche il imparare a parlare al pubblico. Quindi è un corso totalmente completo per le persone che si affacciano al social selling e le persone che vogliono qualcosa di più e raggiungere proprio il successo nella propria vita. Ti aspetto sulla nostra piattaforma e clicca qua sotto il link che ti porta appunto alla piattaforma dedicata al corso e in più ci sarà al termine del corso la possibilità di stampare l'attestato che appunto attesta la tua partecipazione al corso e i 30 minuti di core con me dove pianifichiamo il tuo successo. Ciao!